Ciao a tutti, sono Tyler di LEGO TAY! Vi farò fare un giro dove compro i miei LEGO! Io e mio fratello vogliamo salutarvi tutti! È parecchio tempo che non facciamo dei video per voi! Sono emozionato, non vedo l'ora di arrivare a destinazione! Saliamo! Ci siamo quasi, venite ragazzi! Siamo arrivati e ora a noi LEGO! Andiamo a comandare in ciabatte nel locale! Andiamo a comandare spaccio acqua minerale! Andiamo a comandare! Andiamo a comandare! Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa! E ho la testa che gira come il kebab, spengo la musica del autoclub! Ho deciso, prendo questo, gli esploritori artici! LEGO preso! Adesso andiamo a casa a costruirlo! 3, 2, 1... Siamo arrivati! Amici, siamo pronti per iniziare il nostro LEGO! Yeah! So, andiamo a casa! Como veggo! Carl! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 E' finito? Ci siamo quasi. Ok. Jay! Jay! Ok. Ok. Oh oh. No. No. Vesti benissimo. Wow. No. Ho preso la chitarra. Altro che internet. altro che l'opera. Altro che l'opera. Altro che il Vaticano. è finito è finito. E' finito è finito. E' finito. e intrappolata in un mega ghiacciaio. E' finito. 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 Che amico è libera. Si. E' libera. Io entro. Ciao ciao. Rientro dentro. No. Io rientro dentro. Ragazzi. Il nostro video di oggi è terminato. Mi raccomando. Ricordate di mettere tanti like. E di iscrivervi sul nostro canale. Tyler Movie. Ciao ciao.